Buon pomeriggio, ci troviamo anche questa settimana alla vigilia di Natale a fare il punto settimanale sull'andamento dell'epidemia da SARS-CoV-2 nel nostro paese. Come possiamo vedere dalla prima slide, questo è l'andamento generale dell'epidemia e vediamo che negli ultimi giorni c'è una netta crescita dei nuovi casi e infatti l'incidenza settimanale per 100.000 abitanti è salita a 351 casi. Come possiamo vedere nella slide successiva, anche la trasmissibilità stimata attraverso il valore DRT rimane sopra il valore di 1 e rimane sopra il valore di 1 sia per quanto riguarda i pazienti asintomatici sia per quanto riguarda le ospedalizzazioni. Questo ovviamente è un segnale forte di un incremento della circolazione del virus. La quadro europeo ci mostra come un po' in tutta Europa la situazione sta progressivamente venendo caratterizzata da una forte circolazione del virus, anche supportata dalla variante Omicron che sta rapidamente diffondendosi in tutto il continente europeo ed è destinata nelle prossimi giorni a diventare dominante. Anche il nostro paese come vedete è caratterizzato da una progressiva maggior circolazione e testimoniata dal colore rosso più intenso, più cupo che caratterizza le mappe. Quando andiamo a guardare nella prossima slide le curve possiamo vedere come in questo momento ci siano delle situazioni altalenanti nei diversi stati europei. Il nostro paese è caratterizzato come vedete da una crescita che in qualche modo è ai limiti inferiori rispetto al resto dei paesi europei ma come vedete la situazione è molto variabile. Dal punto di vista del nostro paese come vedete le mappe mostrano come praticamente in quasi tutte le regioni ci sia una crescita del numero di nuovi casi e come vedete questo vale le frecce indicano le crescite negli ultimi giorni, negli ultimi 14 giorni e la mappa dell'Italia come vedete nella parte destra della diapositiva mostra come ci siano alcune regioni in cui la circolazione è più intensa rispetto ad altre. Nella prossima slide vediamo l'andamento per fasce di età che come vedete si conferma mostrando come le fasce di età più giovani siano quelle maggiormente colpite dalla circolazione del virus in particolare come vedete questo dato è riferito agli ultimi sette giorni gli aumenti negli ultimi sette giorni e vedete che a scalare poi ci sono le fasce di età tra i 20 e i 29 che crescono in maniera significativa e anche le fasce di età tra i 30 e i 49 anni. Per quanto riguarda l'età pediatrica si confermano i dati delle scorse settimane dove circola ed è coerente sostanzialmente con i dati che abbiamo mostrato in precedenza e va ricordato che anche nell'età pediatrica sebbene in numero limitato purtroppo ci sono però anche in alcuni casi la necessità di ricoveri presso le strutture ospedaliere. Questa slide successiva mostra sostanzialmente l'andamento degli RT nelle diverse regioni e vedete che praticamente in quasi tutte le regioni l'RT è sopra il valore di 1 e questo indica e giustifica anche il fatto che la circolazione nel nostro paese continua ad incrementare. Per quanto riguarda gli indicatori decisionali che vengono esaminati sulla base dei dati di giovedì quindi della serata di ieri vedete che sostanzialmente la crescita dell'incidenza passa da 241 casi la scorsa settimana ai 351 di questa settimana e come questa crescita si è accompagnata anche da una crescita nell'area delle ospedalizzazioni sia in terapia intensiva che in area medica. Questa crescita la possiamo meglio vedere in questa successiva slide in cui parliamo della terapia intensiva in cui vediamo che il numero di nuovi casi è passato da 9 a 17 a 1023 arrivando ad un'occupazione del 10.7% dei posti letto di terapia intensiva rispetto al 9.6% della scorsa settimana e quando andiamo a vedere analoghi dati per quanto riguarda i posti letto di area medica vediamo che il numero di persone ricoverate è in aumento passando dalle 7.338 della scorsa settimana alle 8.722 di questa settimana per una occupazione che passa al 13.9%. Quando andiamo a guardare le proiezioni queste ovviamente tengono conto anche dell'aumentato numero di posti letto messi a disposizione da parte delle regioni riconvertendo ovviamente parte dei servizi guardiamo in qualche modo le proiezioni e vediamo che in quasi tutte le regioni è prevista la probabilità di dover utilizzare il 20-30% dei posti letto per i pazienti che necessitano di terapie legate al Covid è un po' come vedete diffusa un po' in tutto il paese queste ovviamente sono proiezioni che tengono conto dello stato dell'arte attuale e delle provvedimenti attuali ovviamente nel momento in cui impattano nuovi provvedimenti queste proiezioni possono subire dei cambiamenti una sintesi e un confronto come stiamo facendo da alcune settimane con la situazione dell'anno precedente come vedete siamo in una fase dove la circolazione del virus in particolare per i casi notificati è superiore all'equivalente dell'anno scorso in realtà rimaniamo ancora inferiori per quanto riguarda le ospedalizzazioni i ricoveri in terapia intensiva e fortunatamente molto inferiori anche riguardo ai decessi nella slide successiva affrontiamo il tema delle vaccinazioni come vedete sta crescendo significativamente il numero di ottantenni ovvero 80 che hanno superato che stanno facendo la terza dose siamo arrivati a un valore del 63-64% e contestualmente come vedete un po' tutte le fasce d'età in tutte le fasce d'età sta crescendo questa attenzione e quindi la raccomandazione va fatta rafforzata nel completare con la dose di rinforzo con la dose booster così come raccomandato un po' tutte le fasce d'età soprattutto alla luce della circolazione crescente e progressiva della variante Omicron va segnalato che la fascia d'età 20-29 anni ha raggiunto quasi il 91% di copertura delle prime dosi e stanno crescendo le prime dosi anche nella fascia d'età 12-19 che come vedete ha raggiunto quasi l'80% va segnalato come ci sia una buona adesione anche nella fascia d'età 5-11 anche se iniziata recentemente proprio per la recente disponibilità della vaccino per questo tipo di popolazione rimane un tema importante come vedete nell'ultima striscia in fondo alla diapositiva di persone che non hanno ancora iniziato il ciclo vaccinale e queste persone come vedete sono ancora numerose e quindi è molto importante anche per queste persone e anche e soprattutto alla luce della nuova variante Omicron che sta circolando nel nostro paese recarsi a iniziare il ciclo vaccinale quando andiamo a vedere con le slide che ormai conosciamo bene l'impatto della terza dose possiamo vedere come sostanzialmente la terza dose fatta nei tempi raccomandati aumenta significativamente la copertura e l'aumenta sia per quanto riguarda il rischio di infezione sia per quanto riguarda il rischio di effetti gravi intesi come necessità di ricovero in ospedale da qui è molto importante appunto fare la terza dose nei tempi raccomandati quando la stessa cosa la possiamo guardare in questo tipo di diapositiva in cui si confrontano le diverse popolazioni chi non è vaccinato chi ha fatto un ciclo ma non ha ancora fatto la terza dose nei tempi raccomandati e chi invece ha fatto la terza dose come vedete sostanzialmente le persone che hanno completato il ciclo e hanno anche fatto il booster la terza dose sono quelle che hanno il rischio in assoluto più basso sia di contare l'infezione e ancor più di contrarre una patologia sulla base di questi dati la cabina di regia nella riunione che ha tenuto settimanalmente quindi anche oggi ha in qualche modo identificato ha guardato i dati che sono disponibili nella prima colonna vedete un po' l'andamento dell'RT in tutte le regioni i valori rossi indicano sostanzialmente l'RT con un limite inferiore superiore anche al valore di 1 e come vedete quasi tutte le regioni sono in rischio moderato ci sono 5 regioni che hanno rischio moderato con elevata probabilità di progressione e ci sono 2 regioni a rischio alto sulla base di queste considerazioni la cabina di regia ha sintetizzato la situazione ricordando come da 9 settimane consecutive ci sia un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi come l'incidenza nazionale abbia superato la soglia dei 350 casi per 100.000 abitanti nei 7 giorni come la velocità di trasmissione sia per quanto riguarda i pazienti sintomatici sia per quanto riguarda le spedalizzazioni si mantenga sopra il livello di 1 intorno a 1.1 e questo ovviamente comporta una previsione di crescita del numero di nuovi casi ma anche del numero di ospedalizzazioni va segnalato che è diminuito il numero della percentuale di casi identificati a livello nazionale attraverso l'attività di tracciamento e questo è coerente col fatto che un aumento significativo del numero di nuovi casi rende problematico da parte dei servizi di prevenzione l'opera di tracciamento che però rimane estremamente importante e da questo punto di vista alla luce del rapido aumento della circolazione in Europa ma anche in Italia della variante Omicron la vaccinazione diventa il primo strumento importante così come le misure accompagnate dalle misure comportamentali vaccinazione che deve essere completata nei suoi cicli e anche attraverso la terza dose laddove viene proprio raccomandata per mantenere elevato il livello di copertura immunitaria ma allo stesso tempo in questa situazione epidemiologica è necessario accompagnare la vaccinazione con delle misure comportamentali e in particolare con l'uso della mascherina con il distanziamento con la reazione degli ambienti soprattutto quelli chiusi con l'evitare l'affollamento degli ambienti soprattutto quelli chiusi e da questo punto di vista questi due strumenti oggi sono assolutamente necessari contemporaneamente colgo l'occasione alla fine di questa condivisione settimanale dei dati per formulare a tutti voi gli auguri per un Natale sereno grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti